Sottoscritto e presentato l'accordo fra il Comune di Chioggia e l'Autorità di Sistema del Mare Settentrionale che identifica il perimetro delle aree portuali e retroportuali, oltre le aree di interazione portocittà, la cui competenza pianificatoria passerà al Comune. L'accordo contiene già delle scelte che l'Autorità di Sistema e il Comune di Chioggia hanno compiuto nell'andare a identificare quelle aree di interazione portocittà che saranno poi nel documento di programmazione strategica e nel piano regolatore identificate come aree in cui è il Comune a dover poi rilasciare le autorizzazioni per insediarvi delle funzioni. Un accordo importante siglato per far fronte alle necessità della città di Chioggia per sviluppare il centro storico e le attività presenti nel territorio. L'autorità portuale sempre nel 2022 lancerà un concorso per la realizzazione del waterfront, quindi lo studio, il progetto di fattibilità tecnico-economica di tutta la parte più di cerniera tra il porto e la città. Sono diverse le aree di interazione portocittà, tra cui l'area dell'ex cementificio ai saloni, alcune aree già in uso residenziale a parcheggio per la città e una fascia continua in Val da Rio. In queste aree potranno essere sviluppate funzioni e servizi legati alla città. Andremo ad attivare la ZTL nel centro storico, ma andremo anche a dare l'offerta di parcheggi ai tanti turisti e cittadini che arriveranno a Chioggia. Infatti, grazie a questo accordo, si potrà dare una risposta ai tanti turisti che arrivano in città e non trovano parcheggio, specialmente con l'arrivo delle grandi crociere. Le compagnie vogliono venire a Chioggia perché è uno scalo sicuro, l'importanza in questo settore è la possibilità di programmare i prossimi scali. C'è stata una ripartenza favolosa, poi proprio la ciliegina sulla torta, venerdì sera è arrivata anche la crociera alla Viking Sky che ha fatto scendere ovviamente i passeggeri e che hanno anche loro invaso pacificamente il nostro centro, hanno mangiato nei baccari durante la sagra del pesce, hanno acquistato anche nei negozi e quindi veramente stiamo rilanciando la città.